E se ci pensate bene, questa non preferenzialità, questo essere iscritto in maniera equivalente e osare dire quasi equidistante, cioè equa, voi direste, fra gli esseri, mi parla di un qualcosa che umanamente sfugge alla possibilità di comprensione, a meno che non incida profondamente sulla struttura che si è creata fin da quando siete bambini del vostro modo di guardare il mondo. Sempre basato sull'individualità, sempre basato sulla competizione e cooperazione, entrambe le cose, con l'alterità, sempre basato su quel qualcosa che doveva essere via via plasmante voi, ma in modo tale da riconoscere voi, non da riconoscere ciò che c'è nella profondità, ma questo mi porta ad un'altra affermazione, che l'indifferenziazione non è altro che, come dire, la pennellata superficiale da una parte e profonda dall'altra parte, che il divino pone soprattutto ciò che avviene. Tutto ciò che avviene è retto da questa, come potrei dire, non differenziazione in termini di quello che voi ponete sulla differenziazione, ed esaltazione invece della funzione di ciascun essere, rispetto all'esistere. Rispetto all'esistere. E qui cominciamo il nostro piccolo viaggio, tenendo sempre il focus su quella che abbiamo definito l'accessaria interconnessione fra gli esseri e la necessaria, intrinseca, già esistente, trasmissione. Riepilogo brevemente cosa vuol dire trasmissione. Trasmissione non è ciò che voi date, quindi qualcosa che vi arriva voi elaborate e date. Quello fa parte del mondo, è il modo con cui vedete il mondo. Non è possibile pensare che la radice profonda del mondo sia ciò che voi date, perché è carico di limiti. Trasmissione, a un certo punto noi siamo arrivati a definirla, quel qualcosa che plasmando voi, in termini, come dire, predati, al di là di quello che voi costruite, portate inesorabilmente a ogni altro essere nel momento in cui vi coniugate, entrate in relazione con i vari esseri, che voi lo sappiate o che voi non lo sappiate, che voi lo vogliate o che voi non lo vogliate. Il che vuol dire che sotteso al mondo che voi conoscete o che voi pensate di conoscere, a quel mondo che è il mondo vostro, c'è un mondo che non è vostro. C'è un mondo a cui voi siete intrinsecamente legati e di cui voi siete espressione, ma non nella forma con cui voi vi considerate, in un altro modo, in un altro modo e in un altro modo.